Ciao! Una tecnica che a volte uso per modellare delle cose velocemente è partire da una fotografia. Ovviamente va bene quando la fotografia è qualcosa di quasi frontale, perché se abbiamo una fotografia sola e vogliamo ottenere un oggetto 3D è meglio che non sia una foto troppo inclinata. Prendo questa perché non è perfetta, è un po' storta e quindi permette di fare qualche aggiustamento e nello stesso tempo però è abbastanza frontale da poter pensare di essere utilizzata per ottenere questo elemento con la porta. Allora in Blender per importare una fotografia si può mettere un piano, assegnargli una texture, c'è un add-on che rende tutto molto più facile. Quindi in Edit Preferences abbiamo un add-on che si chiama Import Images as Plains. Se voi lo spuntate vi permette di importare direttamente delle immagini. Adesso cancello il cubo e cancello anche la luce e la telecamera. Trovate adesso o qui nella finestra Import Images as Plains oppure direttamente con Aggiungi in scena la voce Image, Images as Plains. Possiamo andare da qui a prendere la nostra fotografia. Qui ci sono un po' di opzioni. Io le lascio tutte come sono tranne questo, Use Alpha. La nostra foto non ha trasparenza e quindi la tiro via e faccio Import Images as Plains. Come vedete ha creato un piano ed è nelle stesse proporzioni della foto. Se mi sposto nella modalità con i materiali posso vedere la fotografia. Adesso che la vedo posso anche ruotarla. Quindi ruota Y90 e adesso se mi metto di lato la vedo giusta. Magari faccio in modo di vederla giusta da davanti qui. Quindi ruota Z90 meno perché era inclinata dalla parte sbagliata. Adesso quando premo 1 me la la trovo davanti ed è un po' più facile. E visto che ho fatto tutte queste rotazioni e sono impostate qui potete vedere posso fare applica di rotation in modo tale che vadano a zero. E anzi posso anche sollevare già, ammettiamo che la base che a me interessi sia quella del muro. Lo metto già qui circa sullo zero il muro e per ora non la ingrandisco perché non ho ancora idea di quanto verrà grande. Allora modello in questa modalità qua con i materiali perché appunto è più facile vedere quello che succede. Prima di tutto quello che mi interessa è raddrizzare la fotografia. Quindi è meglio che trovi nella fotografia qualcosa di quadrato da seguire. Vado in Edit Mode. Lo strumento principale che useremo è lo strumento Knife che lo trovo qua tra tutti gli strumenti. Lo strumento Knife. Come vedete ha la K come scorciatoia. Io di solito uso la K. Qua sotto vedete nelle istruzioni potete vedere che con ESC si annulla, col tasto sinistro si comincia a tagliare, col doppio clic si finisce, col tasto destro si comincia un taglio nuovo. Ci sono insomma varie opzioni ma in realtà a noi quello che interessa intanto è piazzare gli angoli principali. Comincio a mettere i quattro angoli che saranno quelli che poi raddrizzerò. Quindi i quattro angoli della prospettiva. Uno, due, qua devo spostarmi un po' di più in maniera da prendere esattamente qui. Clicco sull'ultimo. Quando ho finito premo invio sulla tastiera ed ecco che ho questi quattro punti disegnati. Se non sono giusti mi sposto nella modalità qua di modifica dai vertici. Ne prendo uno. Se premo G vedete la foto si distorce però se premo G e G un'altra volta riesco a spostare il punto lungo una linea che c'è già e la foto non viene distorta. Quindi posso per esempio premere G in questo e tirarlo un po' giù perché mi ero accorto che era un po' storto. E questa adesso è dritta. Questa è dritta. La foto è stata tagliata e posso andare a cancellare le parti che non mi servono. Potrei premere 3 per selezionare le facce. Questa faccia non mi serve. In realtà diciamo che magari potrebbero venirmi comode dopo. Allora invece di prendere quelle che non mi servono prendo questa qui centrale che è quella principale che mi serve e premo P per separarla. Selection. Sono uscito dall'edit mode è diventata una faccia per suo conto però non è dritta. Torno in edit mode e seleziono i bordi e i due vertici per esempio qui e faccio scala x zero e si raddrizzano. Poi questi altri scala x zero e si raddrizzano scala z zero scala z zero e si sono raddrizzati. Nascondo nel frattempo l'altra parte della foto e mi concentro solo su questa. Ora devo solo andare o utilizzando sempre il comando taglia oppure con dei loop cut con le normali maniere di modellare posso andare a preparare tutto il resto. Quindi per esempio qua premo ctrl r e faccio un loop qui. Noterete che ci sono delle distorsioni. Più loop mettiamo e prima risolviamo le distorsioni. Quindi maggiore sarà il numero di loop e minori saranno le distorsioni che si creano. Quindi adesso metto anche questa. Mi accorgo che ho questi due pezzettini di muro. Se facessi un loop qui in questo modo me lo ritrovo fino in fondo. E allora cosa faccio? Seleziono questa faccia e basta e premo y che volendo è nel tasto destro. La vedete split. Split cosa significa? Che adesso questa faccia posso portarla in giro ed è staccata. E quindi se faccio ctrl r qui posso andare a fare un taglio solo qui ctrl r e solo qua. Se qualcuno non l'ho messo giusto come questo con la g posso spostarlo ma distorco la foto e quindi anche questi g g e posso per esempio spostarlo un po' meglio lì. E ora posso continuare a fare le mie modifiche. Quindi per esempio questi due lati adesso io so che devono essere larghi tanto quanto questo qui in basso perché questi due sono due lati che vengono verso di me. Per cui eventualmente questi due qua li tiro un po' verso di me e poi li porto qui. Ovviamente è un modo approssimativo di lavorare ma è perché questo metodo è un metodo di modellazione rapida con il quale posso ottenere un risultato decente ma non è ovviamente una è un metodo semplicemente per poter ottenere degli asset alla svelta. Sto cercando di ricostruire tridimensionalmente come potrebbe essere il mio oggetto. Adesso per esempio questi due muri li tiro ancora avanti in maniera da farli corrispondere più o meno all'altra faccia e ora magari cominciamo con questi. Allora prendo di nuovo knife K e vado a fare per bene il bordo. Ovviamente saranno dei tagli netti. Quando ho finito posso premere invio e adesso ho l'arco. Quando avviene una distorsione di questo tipo e quindi è sbagliata vi conviene aggiungere dei loop prima. Quindi adesso rinuncio, ho fatto un po' di annulla, metto dei loop in corrispondenza circa dei muri. Quindi ne metto uno qui perché appunto come detto i loop aiutano a ridurre la distorsione e qua lo metto all'altezza dell'arco e qui lo metto all'altezza di quest'altro arco in alto. Ora qui è più facile con K andare a tagliare fino a qua giù e premo invio. E ora appunto G, G, la doppia G vi permette appunto di spostare senza distorsione. Qua giù di nuovo K, 1. Come vedete fa snap da solo. A volte può essere fastidioso. zoomate un po' avanti e basta. Invio. Quando abbiamo queste parti qua, adesso devo fare la parte ancora più in dentro qui. Quindi faccio CTRL R di nuovo per fare un loop per esempio qui e anche qui l'altro loop in questa posizione. E ora da qui K invio ogni volta per confermare. Con la K avrò bisogno anche di un pezzo di muro. Allora questa faccia qua la cancello con CTRL X. Elimino la faccia senza cambiare niente. Poi di nuovo con K riparto da qui e prendo tutta questa parte di muro in versione distorta. Cerco di capire qual è il mattone. Vedete adesso ho preso questa parte di muro qui. Allo stesso modo anche qui dovrò prendere la parte interna dell'arco. Qui premo K di nuovo e ripercorro magari con lo stesso numero di facce possibilmente perché così posso creare un loop. Allo stesso modo anche qua procedo magari facendo le facce in corrispondenza della prospettiva giusta che corrisponde mattone per mattone a queste qui. Ovviamente il livello di precisione dipende da quello che voglio avere io. Io adesso sto procedendo piuttosto velocemente. Se volete fare le cose meglio procedete con maggiore calma. Adesso da qui K. Potete anche attraversare in questo modo più di una linea. in questo caso mi fermo qui. Ok adesso mi limito a questa parte qua. Quindi adesso butto via tutte le parti che non mi servono. Questa. Questa faccia qua. E questa faccia qua. Quindi ora questo qui dovrà venire più o meno alla stessa altezza. E qui. E ora nello spazio lo sposterò indietro. e lo farò corrispondere qua giù. Mentre invece qui devo prendere tutti questi. Quindi da qui a qui a qua giù e li devo far corrispondere circa. Adesso come vedete qui cominciano a esserci dei problemi. Perché? Perché questo è un arco. E allora devo aiutare Blender con le facce giuste a farlo funzionare. Quindi devo unire i vertici in maniera che Blender sappia cosa fare. Potete usare J di Join. Selezionate due vertici e fate J. J. In questo modo Blender sa che questi due vertici sono uniti. Tra l'altro vedete come al solito la distorsione che viene un pochino aggiustata ogni volta che lo fate. e adesso potete farli corrispondere. Quindi G lo sposto in giù. Adesso prima li faccio corrispondere circa. E poi li vado. Insomma adesso li devo mettere al posto giusto. Quando avrò finito questi tre. Per esempio 1, 2, 3. Scala X, 0. Così finiscono tutti in linea. Li metto lì. Anche questi. Scala Y, 0. Scala Z, 0. Scala Z, 0. Cercate di farlo dopo che li avete messi quasi perfettamente in riga. Perché ovviamente scala Z, 0. Vengono messi tutti sulla stessa linea. E quindi potrebbe spostarvi anche quelli che erano già giusti. Scala Z, 0. Scala Z, 0. Adesso posso andare a prendere tutto questo arco interno. Quindi questo. E lo devo ingrandire a partire da qui sotto. Quindi posso portare il cursore qui con maiuscolo S. Cursor to selected. Metto il cursore al centro di questi due punti. Seleziono tutto l'arco. E usando il 3D cursor come pivot point. Lo potete cambiare da qua sopra. S, ingrandisco l'arco in maniera che corrisponda in dimensioni a quell'altro. E sia quasi sovrapposto. E ora posso prendere tutti i punti senza perdere la selezione. Tirare un po' indietro. Ed ecco qui che ho creato lo spessore dell'arco. È ovvio che ci sono tutte le deformazioni. Non è che non ci siano. Però alla fine vedrete che la cosa funziona abbastanza. Quindi J, 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 J. E ora devo prendere tutta questa faccia. Più questa, questa. In realtà. Quindi tutto questo loop di facce. Più queste. E ora vedete qui. Io dovrei portarle indietro. Però qua mi manca una faccia che non ho costruito. E quindi la devo costruire. Mi manca lo spessore. Quindi lo devo prima di tutto creare. Mentre da un lato qua un pochettino c'è. Quindi se premo K da qui. Posso venire giù. Qui un po' di spessore c'è. Da questo lato lo spessore non c'è. Ma io la faccia sono costretto a crearla ugualmente. Zoom avanti. Mi serve. Magari piccolissimo. Però mi serve. Quindi K. Poi zoom indietro. Vengo giù. E invio. Ecco. E solo adesso quindi collegando tra l'altro le facce nel modo giusto. Quindi devo collegare queste con J. Mentre invece questa qui non esiste. Control X. La tiro via. E anche qua uguale. Questa non serve. Control X. Devo prima collegare queste due. Con J. E questo lato. Control X. Non esiste. E adesso sì che posso prendere. Tutta questa. E anche questa faccia. Prima mi metto da davanti. E ho il cursore già nel posto giusto. Mi serve anche questa. E posso scalare. E farla diventare grande. Come l'altro. Scala. Ecco. E adesso posso tirarla indietro. Perché ho creato le facce necessarie. Magari solo di pochino. Però. Ecco qui. Ho creato le facce necessarie. Ora mi mancano questi elementi qui. Prima mi serve un loop che tagli qui. Però siccome ho questo arco di mezzo. Vediamo cosa posso fare. Probabilmente è meglio con una K. Andare a tagliare. Così. Così. E adesso taglio prima. Fino in fondo. E qui faccio la stessa cosa. Parto da un punto. Ecco. Per esempio questo. E. Taglio anche qua fino in fondo. Ecco. Ora che ho tutti i tagli posso rimuovere con CTRL X le parti che non voglio. Che sono quelle che non hanno nessun senso all'interno della forma che mi interessa. E qui mi conviene estrarre con la Y le facce con Y. Qui estraggo queste facce. Y. In maniera da poterci lavorare più facilmente. Y. Y. Adesso che lo è estratte. Queste qui funzionano per conto loro. Quindi. Se io prendo questa qui e la sposto. Vedete? Non ho problemi. Posso spostarla esattamente sopra a quella sotto. E allo stesso modo questa. Posso portarla qui. È ovvio che qua avrà un buco. Non posso farci granché perché è fatto così il... Li andrò a coprire dopo i buchi. Quindi vedete? Adesso ho ottenuto questo. Se li staccate con la Y diventa un po' più facile. Poi posso fare CTRL X per liberarmi di quel vertice. E anche qua CTRL X perché in realtà quel vertice lì non mi serve. Qui devo fare attenzione a scegliere i vertici giusti. Vedete? Questi sono quelli della faccia dietro. Non quelli della faccia davanti. Posso premere H per nasconderli. In maniera tale poi da poter selezionare questi. Spostarli un po' e fare ALT H. Poi adesso è più facile selezionare esattamente questi. Quindi ora ho sistemato anche questa. C'è questo vertice qui. Anche qua verifichate quale dei due avete preso. È quello giusto. CTRL X. Lo posso buttare via. Anche qua verifichiamo qual è. È quello giusto. CTRL X. Ok adesso ho un po' tutto ma devo coprire i buchi. Ho bisogno di geometria che adesso non ha la foto perché per esempio la parte di sopra qui io non ho foto. Se io duplico questa faccia vedete si porta dietro lo stesso pezzo di muro e quindi posso fare ruota Z 180. Devo ricordarmi di cambiare di nuovo il median point. Ruota Z 180 e la rimetto al posto qui. Per esempio quindi in qualche caso potete riutilizzare le facce. Questo è un altro caso. Qui lo duplico e la porto lì. Riciclare qualcosa che c'è già tramite duplicato di una faccia. Intanto tramite duplicati vado a coprire le facce che non ci sono. Tra l'altro queste facce adesso sono girate dalla parte opposta. Siccome l'ho duplicato se io vado a farmi mostrare le face orientation vedete le facce hanno un lato giusto quello blu e il lato dietro. Quando voi duplicate come ho fatto qui questa di là vedete che si è girata. Potete fare alt N e fare flip e allora ve la gira dalla parte giusta. Alt N flip e quindi adesso le normali guardano dalla parte giusta. Non è del tutto necessario farlo dipende un po' da quello che volete fare. Però qua posso prendere tutta questa parte qui, tutte queste facce, le duplico su Z e le metto qui. Tanto da sotto è solo per dare un po' di spessore. Qua sono sicuro che devo fare alt N flip per girare le normali. Quindi in qualche caso ricicliamo quello che c'è. In qualche altro caso invece dobbiamo reinventarcelo. E quindi per esempio questo potrebbe essere questo caso. Seleziono tutto l'arco. E lo estrudo con la E dove deve andare. Che succede? Che ovviamente queste facce sono state estruse e non hanno le UV. Quindi le devo selezionare. Se vado in UV editing posso scoprire dove sono. Allora qui vi conviene selezionare anche qua il materiale in maniera da vedere. Ho selezionato queste facce e una volta selezionate devo fare U, unwrap e adesso queste facce esistono sulla scena di qua. Vi rimando al mio video sulle UV per capire meglio questa parte. Posso selezionare tutte queste facce, scalarle e andare a trovare il posto giusto dove metterle. Quindi per esempio potrebbe essere qui. Potete nascondere tutto quanto da qua. Se in realtà il posto giusto sarebbe qua giù. Perché sono questi gli stessi mattoni che ho utilizzato giù. Ovviamente qua bisogna rifare la distorsione all'incontrario. Quindi per esempio posso provare a ruotare. No. Quindi vedete bisogna andare a trovare il posto giusto dove farle cadere. Quindi magari adesso queste le devo storcere in questa direzione e scalare. Ok. Adesso sono un po' più... Ovviamente non vengono benissimo. In questo caso per via anche dell'ombra. Posso cercare di capire quali sono. Ripristino la visualizzazione di qua. Questa è questa faccia qui. E la posso spostare un pochino in maniera che vada a corrispondere meglio all'ombra. Magari uso il Proportional Editing. E riduco il raggio di Proportional Editing. Fino a spostare solo alcune facce. E ovviamente per di qua non corrisponderanno. Ma insomma a me dipende da dove mi interessa guardare. Magari interesserà guardare da questo lato qua. Il procedimento è questo. E ho ottenuto un asset 3D dalla fotografia. Che può essere un po' più versatile della fotografia originale. Posso inquadrarlo da più parti. Ovviamente la sua ruvidezza magari non è quella giusta. Possiamo comunque utilizzare però le informazioni della fotografia. Se andiamo sotto shading. Possiamo notare che la foto attualmente viene usata solo come colore. E il fatto che questo oggetto sia più o meno lucido. È dato da questa roughness. Vedete se al minimo l'oggetto diventa lucido. E in alto diventa più ruvido. Allora sicuramente deve essere più ruvido. Perché sono mattoni. E poi potrei usare comunque questa texture. Guardate se io ci metto una color ramp in mezzo. Trasformo in questo modo. Posso andare un attimo a visualizzare questa. Facendo ctrl shift click. Qui se avete installato l'add-on che si chiama node wrangler. Vedete un'anteprima di quello che succede. E spostando questi valori posso per esempio fare così e avere del nero nei buchi. Questo potrei usarlo come mappa di altezza. Per farlo mi serve un nodo bump. Ripristino intanto con ctrl shift sul principle. La visualizzazione è qui. Se voi collegate il color della color ramp a height all'altezza. E poi questa normal a normal. State informando il materiale che il risultato qui è l'altezza. E quindi vedete si è creato questo effetto dove le parti bianche dei mattoni sono più rientrate. Qua possiamo cambiare un po' la forza e la distanza. Ecco. E regolando in pratica questo possiamo dare un pochino l'idea dei mattoni. Ecco. Questa tecnica la uso ogni tanto per ottenere rapidamente dei modelli che vengano visti da un'inquadratura. Non troppo diversa da quella della fotografia originale però sono un po' più versatili rispetto alla fotografia originale. E comunque è un metodo abbastanza veloce. Va bene per porte, finestre, muri. Rimangono ancora dei buchi. Insomma. E possono essere corretti. Magari anche tramite una piccola distorsione. Scala x zero. E tiro un po' in qua tutto quanto. Avviene una piccola distorsione però ho coperto il buco insomma. Sono piccole distorsioni con le quali si può andare a correggere i buchi. Spero che sia utile. Grazie mille e alla prossima.